Socrate morente, Friedrich Nietzsche, idilli di Messina, la Gaia Scienza. Ammiro la forza d'animo e la saggezza di Socrate in tutto quanto egli fece, disse e non disse. Questo ateniese, spirito maligno e ammaliatore, beffardo e innamorato, che faceva tremare e singhiozzare i giovani più tracotanti, non fu soltanto il più saggio chiacchierone che sia mai esistito, fu altrettanto grande nel tacere. Avrei voluto che anche nell'ultimo momento della vita fosse restato silenzioso. Allora, forse, sarebbe appartenuto a una categoria di spiriti ancora più elevata. Fosse stata la morte o il veleno, la religiosità dell'animo o la malvagità, Certo è che qualche cosa all'ultimo momento gli sciolse la lingua e lui disse Critone, sono in debito d'un gallo ad Asclepio. Queste ridicole e terribili ultime parole significano per chi ha orecchie. O Critone, la vita è una malattia. Possibile, pessimista un uomo par suo, che visse serenamente sotto gli occhi di tutti come un soldato, non s'era appunto preoccupato d'altro che di far buon viso alla vita, e per tutta la durata di essa aveva tenuto nascosto il suo giudizio ultimo, il suo più intimo sentimento. Socrate, Socrate ha sofferto della vita, e se neanche vendicato, con quelle parole velate, atroci, pie e blasfeme. E per di più Socrate sentì la necessità di vendicarsi? Mancava forse alla sua straricca virtù un granello di magnanimità? Ah, amici, noi dobbiamo superare i greci.